Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio No, Piton non dice cosa Ma non sto imitando Piton Mmm No, voglio che lo imitino Ciao a tutti e ben ritrovati qui su questo mini vlog Io e mia sorella dobbiamo fare merenda Mentre guardiamo Lizzi Mentre guardiamo Lizzi E non mi sta suggerendo che cosa dire Vorrei che tu scegliessi Che il tuo sai cosa Ah si Devo scegliere Il mio tè Scelgo No Non ho Pikachu Chissà se in giappone c'è il tè di Pikachu Comunque questo Mi cadeva E vedi Uva nera e fragola Filtro Fiore Bonamelli Allora Questo Questo non è tè però è infuso di frutta Non giudicatemi male Qui ci sono gli Oreo E vi garantisco che non sono tutto sto granché Però volevo provarli col tè E allora perché li mangiano? Quanto mi divertirò a montare il video Un Oreo Due Oreo Tre Oreo Cucchiaio Cucchiaio Coltello Panini dolci da mettere con La Nutella Questo è il DVD con gli episodi di Lizzi Maguire E ci vediamo l'episodio numero 23 Il gioco di ruolo Perché non mettiamo a fuoco Seconda serie B Ehm Dov'è? Il gioco di ruolo Oreo spaccato Sto preparando il pane della Nutella Sì lo so l'ho tagliato male E' colpa mia Comunque Ecco qua La merenda è pronta Quindi ci sono gli Oreo Il tè sta arrivando E quindi buon appetito E mentre lo dico non è a fuoco Buon appetito Buona merenda a tutti Bene ragazzi adesso abbiamo finito la merenda Spero ovviamente che questo piccolo vlog vi sia piaciuto E quindi io vi saluto E ci vediamo presto in un prossimo video Ciao